Musica Ciao a tutti ragazzi Ehm Abbiamo venuto in questo nuovo video raga Oggi come avrete potuto leggere dal titolo Ehm Aprirò Un nuovo canale raga perchè Cioè non so perchè Perchè diciamo Voglio aprire un nuovo canale E raga non so se Su questo porterò lo stesso video Poi vedrò Forse si o forse no Non lo so Comunque raga Ancora devo scegliere il nome Quindi raga Ehm Appena scelgo il nome Vi In descrizione Vi lascio Il nome del Il link del canale Il nome del canale Quindi raga Ehm In descrizione vi lascio il nome del canale Ehm Se volete passateci E niente raga Porterò Contest di salva il mondo Ehm Poi porterò Ehm Non so Tipo Truffiamo i truffatori Poi raga Porterò anche molto altro Ehm E niente raga Volevo dirvi solo questo Ehm Spero Che il video Sia piaciuto Noi Ci becchiamo Alla prossima Magari Anche al prossimo Alla